Sabato mattina sul mercato del Lungorio che riprende dopo la pausa forzata a causa ordinanza coronavirus. Tutti i produttori di Campagna Amica, siamo circa una quarantina, vi aspettiamo dalle 8 fino a luna, ma abbiamo anche una novità. Nella nostra pagina Facebook di Campagna Amica Mantova troverete un elenco di produttori con i loro contatti telefonici, dove a quelle persone che hanno timore o non vogliono uscire o sono in possibilità di uscire potranno contattarli telefonicamente e gli porteremo la spesa a casa condando gli orari e tutte le ulteriori necessità. Quindi vi aspettiamo sabato mattina sul Lungorio a Mantova, Campagna Amica c'è, Campagna Amica non si ferma mai.